il bordello il bordello come un'altra parte del fatto che si tratta di un altro tempo il quadro non si tratta di un altro il mondo è un anno viscero per tutti qua ecco qua no per l'attento ragazzi qui è fatta e benvenuti in questo nuovo video raduno su gta online e' fatto ciao raga sono lei non c'è un'altra scuola per partecipare a raduno addirittura non sei andata a scuola un po' perchè sto male un po' perchè volevo fare un po' perchè sennò a scuola per farlo giustificazione raduno persato il mio amore il mio amore alberto un bel giorno ha guardato tutti i due facce di questi esseri la mia vita pura 2.0 per il mio amore la realtà il mio amore mario come gioco come per voi rinforzato ma non voglio dire che ho fatto il suo ho preso il palo anche se non è stato ahahah ok attenzione satta il secondo ultimo la regola vuole il primo posto no la preghetta e capace di armoni per il salto il giro oddio sta finendo sul tetto la parola non è stata nessun tanti forti sono due giri comunque chi l'aveva chiesto lo so ragazzi è il primo sono io ragazzi si non ferma e non guarda la parte di un salto perfetto la città di un'opera il secondo secondo erano come ti permetti atto ma lo metterà anche in posizione fatta si si alla fine lo sto registrando sono chiesto ok e' un po' si è grandissimo eh lo so, modestamente vado, vado, vado aiuto, mi c'è f***o vado non spingete non spingete, c'è qualcuno, non riesco a f***a, guarda, 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 guarda no, guarda, 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 guarda. stavolta lo fatto perfetto il salto guarda davvero il sacco eh si non c'è vero appena che in posizione. io sono da una contrazione sono il primo vista una pista è solo saranamo 1 il primo in 어머ia auto via mamma mia c'è un'esercizio non è un'altra cosa no 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 quando ti vedo io ho un'auto ho fatto il migliore eh sì fatto non mi raggiungerai mai a meno che tu non non ti si spenga il controller speriamo eh speriamo dai troppa santo c'è scritto anche sulle istruzioni troppa santo no 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 Rahul Merenes vergognati dai forse sesso vergognati eh vabbò ho fatto perdere 10 mila dollari addirittura eh da allora devi buttar fuori Raul così vincevo vincevo se buttai fuori Raul non l'hai fatto non l'hai fatto riuscirà ad avviarsi questa gara oppure no oh finalmente ah te l'abbia fatto come ero detto eh tu cioè non sei pronto sarto adesso sono pronto ah ecco ah perché me è caricato proprio adesso eh madonna qua ci siamo un bordello ah ma già ma la moto non è eh non la scegliamo noi ma i baciù c'è già quella presa ma guà come stai a fare volare la roba vai c'è di che mi clacca sembra real il gioco della PS4 dai uuuh tutti morti tutti morti nooo ma ora le bagno questo sarà dura eh è difficilissimo è difficilissimo è difficilissimo sono tutta uuuuh come è legto come è che ho messo meromane che ho messo meromane che ho messo senza collisioni è bello perché sennò eh sennò era un bordello c'era pure la possibilità di metterla con le bici però con le bici c'era scritto che era difficilissimo quindi ah merda ci credo no no sono scivolato giù eccomi eccomi sto ritornando eh nooo è una cosa dalla bia no ma per sé ma dai ma donna no 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 è difficile ma scivoli che amici no 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 beast beast è estremamente malata lezzo lezzurino è perfetto ma è malata è forte dai 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 nooo ma l'ultimo la bannetta l'ultimo la bannetta l'heccolato amicizia è stato il comodo ma superso davvero la città più leone m no il psd eh appunto ah e allora come tu fai ad avere gli amici li aiuti tu si esatto lo devo inviare io ma come fai no dai dovete invocare l'aiuto di Osvaldo che Osvaldo mi amico vai no ma dai no 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 pensa con le bici cos'era sta cosa eh va bene non parla si ma è stato con le bici era l'impossibile eh si anche perchè poi quando arrivi al salto devi pure saltare bene eh questa gara ventola questa gara ventola guarda se la ventola carai no devo andare a ventola lì chi è il primo oh io ho fatta vai vai ce l'ho fatta no 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 ma dai no ma dai ok e qui cosa dobbiamo fare ah dobbiamo impennare eh no 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 attenzione ce la fa no l'ultimo non sa neanche lui come ha fatto no 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 si si ma anche io ce l'ho fatto oddio no sono saltato troppo dovevi incastrare dentro nooo che f***a dovevi incastrare dentro quinto posto no 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 che f***a no ma se vince ancora Raul è una mafia eh no sta dietro a me no 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 c'era un po' questo c'è proprio c'è proprio un po' po' oddio l'altra parte sacca la parte della compagnia non è la mia non è la mia qui per l'acqua merda 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 questa è bellissima 1 e te carino e perché la mia pagina pari a carta la mia roba non ho avuto la roba no la data la propria un po' le tante no no per la puma con la monta dai con le motocrazioni per un'altra parte di un'altra parte oddio da parte del borghino la parola dell'uomo guau al quarto posto no bravo grazie anche se non vengono no non lo spero non è stato stavolta un po' che mi sento da con le mutande così fiero pistoletta viola ok aria mi sono tu che culo madonna oh ma chi è che fa il giro no mi ha fregato round 2 certo ci mette più tempo a fare il caricamento per fare il secondo round che quanto dura il round stesso ok stavolta non possiamo perdere attento 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 oh 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 papà no non si è mai fatto con l'idiotta io li bruci no che chiacchio mio dio che fai ci hanno massacrato la mutandare ci hanno massacrato guarda quello guarda quello